Allora io ho creato questa slide in più come riepilogo di quanto ci siamo detti la volta scorsa sulla parte dei numeri interi, qui noi abbiamo visto tre codifiche, binario puro, modulo di segno e complemento 2, del modulo di segno abbiamo solo parlato male e qui ho provato a riassumere il valore minimo e il valore massimo sia come valore decimale, cioè formuletta, sia come rappresentazione binaria, cioè come lo scrivo il valore massimo e come lo scrivo il valore minimo, ad esempio il modulo di segno il valore minimo è un numero negativo e avrà il segno meno e il valore assoluto più alto possibile, quindi con più uni possibile, mentre invece nel complemento 2 le cose sono un po' diverse perché il valore più piccolo che posso ottenere ha il segno meno a cui non sommo nessuna componente positiva. Vedete che i limiti di rappresentazione tra il modulo di segno e il complemento 2 sono leggermente diversi e in particolare il modulo di segno ha un numero in meno nel suo range, no? Ad esempio su 4 bit noi avremmo in complemento 2 i valori da meno 8 a più 7, se fosse n fosse 4, ma se n fosse 4 in modulo di segno avremmo solamente i valori tra meno 7 e più 7, ne manca 1 perché lo 0 occupa due posizioni, una posizione viene rubata dal doppio 0, infatti lo 0 si rappresenta con tutti i 0 ovunque tranne l'anomalia del modulo di segno. Ho anche rappresentato qua come si scrive il più 1, beh questo è banale, sempre uguale, così come tutti i numeri positivi si scrivono uguali nei tre modi e invece come si scrive il meno 1 che è in binario puro ovviamente non può essere rappresentato, il modulo di segno c'è un meno davanti e poi c'è la rappresentazione dell'1, invece il complemento 2 il meno 1 ha una rappresentazione un po' curiosa perché è il più grande numero negativo, è il massimo tra i numeri negativi e quindi è negativo, quindi c'è un 1 davanti al bit di segno e poi a tutti uni perché devo alzare il più possibile dal numero negativo fino ad arrivare il più vicino possibile allo 0 e guarda caso se questo è 2 alla n meno 1 la somma di tutti gli altri farò proprio 2 alla n meno 1 meno 1, la somma di n potenze di 2 e quindi il risultato fa esattamente meno 1, quindi il meno 1 in complemento 2 si scrive con tutti i uni e poi man mano che diventano più negativi i numeri toglierò degli uni quindi sommerò meno contributi positivi e qui ho anche riassunto la regola per verificare se c'è un overflow oppure no che non abbiamo analizzato nel caso del modulo di segno perché dipende da come si fanno le operazioni che si fanno in modo complicato quindi lasciamo perdere, mentre invece sul binario puro sappiamo che ciò che mi interessa è se ho un riporto o un prestito sul bit più significativo mentre invece nel complemento 2 non devo guardare il bit più significativo che ci sia un riporto o non importa devo semplicemente controllare i tre segni, i segni dei due addendi e quelli del risultato se sono coerenti allora il risultato è giusto, se i segni non sono coerenti quindi il segno del risultato è diverso da quello che mi potevo aspettare allora overflow. E questo grosso modo è ciò che dobbiamo sapere sulla rappresentazione dei numeri interi. Passando invece ai numeri reali, passettino avanti, che facciamo? Anche qua partiamo in qualche modo dall'ispirazione rispetto a quanto facciamo in base 10. Un numero reale o frazionario non intero è un numero che per noi è una parte intera e una parte frazionaria, che separiamo così alla lavagna sul quaderno con una virgola, però la virgola ovviamente non c'è nei bit, il bit o è 0 o è 1. Quindi non è concettualmente difficile pensare a come rappresentare un numero negativo. Se noi avessimo la virgola noi potremmo dire che 1,01,11, che cos'è questo numero? Applichiamo sempre la stessa regola, vuol dire che 1,01, qui c'è una potenza 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, per estensione le altre cifre avranno esponente 2 alla meno 1 e 2 alla meno 2. Quindi si estende naturalmente la rappresentazione posizionale anche le potenze negative della base per ottenere tutte le componenti frazionali. Quindi sta roba qua in decimale fa 5, 4 più 1, virgola, 2 alla meno 1 è un mezzo, 0,5, 2 alla meno 2 è un quarto, 0,25, quindi fa 0,75. Si applica lo stesso meccanismo. Quindi non c'è difficoltà concettuale a pensare ai numeri frazionali, basta estendere la sommatoria anche a potenze negative del 2. Ma così come facciamo in base 10? L'unica difficoltà, diciamo così, tecnica, è la virgola. Che se io ho un computer che ha solamente delle scatoline in cui devo mettere i bit 0,1, così come il segno non lo potevo rappresentare esplicitamente, ma allora dedico una scatolina, un bit, a dire tu mi indichi il segno, come faccio per la virgola? Non può essere la virgola rappresentata con uno 0 perché si confonderebbe con uno 0, non può essere rappresentata con un 1 perché si confonderebbe con un 1. E allora come faccio a rappresentare la virgola? Beh, la prima opzione è la cosiddetta virgola fissa, cioè se io ho un certo numero di bit, n bit, no? Decido a priori che ne avrò un certo numero, qui vengono dette m, m, la slide parla di un valore m, bit fissi per la parte frazionaria. E i restanti bit che saranno in questo caso n-m per la parte intera. Quindi io la virgola non la scrivo, ma decido a priori, e devo saperla questa informazione, dove sarà, sarà sempre nello stesso posto. È come se decidessi di scrivere tutti i numeri decimali con tre cifre fisse dopo la virgola. Allora se da quando fossimo nati tutti i numeri avessero sempre tre cifre dopo la virgola, la virgola l'avremmo anche potuto dimenticare, non scrivere mai, perché tanto so che le ultime tre cifre sono la parte frazionaria. Quindi è possibile come regola di rappresentazione avere una rappresentazione appunto a virgola fissa, in cui data il numero di bit decido a priori che un certo numero di bit saranno riservati alla parte intera e un certo numero di bit alla parte frazionaria. E poi faccio i calcoli normalmente. Questo in realtà tra l'altro è equivalente a dire lavoriamo con numeri interi ma moltiplichiamo tutto per due alla m. È come dire, immaginiamo, prendiamo l'esempio delle tre cifre decimali. Se tutti i numeri con cui abbiamo avuto a che fare avessero sempre avuto tre cifre decimali e noi decidessimo di non scrivere più la virgola, praticamente avremo un numero che è moltiplicato per mille. 32,774, tolgo la virgola e fa 32.784. Quindi avere una virgola fissa significa in realtà pensare che questi siano numeri interi, fare calcoli come fossero numeri interi, sapendo che in realtà c'è un fattore di scala, un'unità di misura che non è 1 ma è 2 alla m. O la meno m seconda, se la metto se la tolgo questa virgola. Quindi questa, se vogliamo, è una rappresentazione molto semplice perché di fatto ricado nell'aritmetica dei numeri interi. E mi devo ricordare però che l'unità di misura non sono i grammi ma i chilogrammi, insomma, non sono le unità ma sono 2 alla m, dove m devo conoscerlo, è un dato che mi devono dare altrimenti quel numero lì non lo so interpretare. E questo va bene quando io conosco a priori il range dei numeri di cui mi devo occupare, l'intervallo di rappresentazione dei numeri di cui mi devo occupare. Esiste però poi un'altra rappresentazione che invece copia dalla rappresentazione scientifica a cui siamo abituati, in cui tendiamo a rappresentare separatamente il valore del numero dalla posizione della virgola. Se ci pensiamo quando noi scriviamo un numero di notazione scientifica, non so, ad esempio questo, in cui abbiamo un certo valore per una potenza del 10 e noi abbiamo un valore e poi abbiamo una potenza del 10 che mi dice su questo valore dove spostare la virgola. Noi siamo abituati normalmente, ad esempio se 1024, che è il numero che mi piace, in notazione scientifica lo scriveremo 1,024 per 10 alla terza. Cosa ci sta dicendo questo? Ci sta dicendo che il numero è 1024 e la virgola è tre posizioni a destra della prima cifra. In base 2 si sceglie, noi normalmente lavoriamo così, la cosiddetta notazione scientifica cerca sempre di avere una cifra dopo la virgola e tutte le altre dopo. Siamo abituati così. Ecco, in informatica invece si preferirebbe mettere lo 0 come prima cifra. Quindi questo lo scriverei, se ragionassi il binario 0,1024 per 10 alla quarta. È lo stesso numero chiaramente, è solo una questione di normalizzazione. Qual è la mia preferenza? La preferenza in decimale, nel mondo di tutti i giorni, di avere una cifra davanti alla virgola. La preferenza nella presentazione del calcolatore è avere uno 0 davanti alla virgola, in questo caso. Una cifra fissa. Cambia poco. E poi il 4 dell'esponente mi dirà ovviamente questa virgola di quanto spostarla a destra, se l'esponente è positivo, di quanto spostarla a sinistra se l'esponente invece è negativo. Perché questo trucco? Perché a questo punto tutti i numeri inizieranno con 0 virgola e allora lo posso lasciare sottinteso. E non sprecare un bit per dire il primo bit è 0, perché lo sarà sempre. Qui ci sono tutta una serie di economie del bit per cercare di rappresentare più numeri possibili dato un certo numero di bit. Ma queste fanno comunque riferimento alla formula standard della notazione scientifica in cui separo l'esponente, cioè la posizione della virgola, dal valore del numero che chiamiamo mantissa. Ovviamente questo numero può essere positivo o negativo. Per questo si chiama rappresentazione in virgola mobile perché la posizione della virgola non è fissa ma è decisa dall'esponente. È come se io avessi la mantissa che la virgola è in una certa posizione e poi ho l'esponente che mi dice senti questa virgola che è sottintesa, tu sai già dov'è perché è sottintesa, è alla prima posizione, spostamela a destra o a sinistra, di quante posizioni ti dico io che sono l'esponente e quindi questa virgola immaginaria è mobile. Questa è la rappresentazione che spesso si preferisce perché mi permette di lavorare con una stessa rappresentazione su numeri molto piccoli o numeri molto granci, cioè su un range di valori molto ampi, perché la virgola fissa alla fine è come numeri interi, da 0 fino a 2 alla n-1, non è n ma n-m questa volta, perché le m mi servono per la virgola. E quindi se io avesse un numero che deve essere piccolo ma molto preciso, quindi 0,000 tante cose, non ho tante cifre dopo la virgola, perché un po' mi vengono mangiate dalla parte intera. E se io avesse un numero intero molto grande non potrei rappresentarlo perché un po' di bit mi vengono mangiati dalla parte frazionaria. Quindi il limite della virgola fissa è che mi vincola un po' sull'ampiezza dell'intervallo di numeri che posso rappresentare. Nel virgola mobile sono molto più flessibile, se devo rappresentare delle cose dei micron metterò degli esponenti negativi, se devo rappresentare delle cose dei megametri o megachilometri metterò degli esponenti positivi e quindi lo stesso numero riesco a spostarlo su scale di potenze di 10 o di 2 molto più ampie. E quindi come rappresentazione general purpose, genericamente utilizzata, si usa di più la virgola mobile. La virgola fissa si usa in alcune applicazioni special purpose quando se tu devi inventare il controller della lavatrice che controlla la temperatura sai esattamente quali sono i range di numeri su cui lavorare e quindi ti fissi la virgola e non sprechi dei bit per spostarla questa virgola perché tanto sai già quali sono i valori. Quindi parliamo della rappresentazione del floating point che è quella più usata ma è anche quella più che tra l'altro quando noi scriviamo float in python usa questa, che è quella più usata ma è anche un pochino più complessa. Allora un numero è rappresentato da tre componenti che sono il segno, l'esponente e la mantissa. il segno è il segno del numero, positivo o negativo, per due alla esponente e l'esponente a sua volta può essere positivo o negativo quindi in realtà ho due segni distinti, uno del numero e uno dell'esponente. e poi ho la cosiddetta mantissa, c'è la parte con la virgola sottintesa, il valore del numero. Qui li ho disegnati in questo modo questi blocchi perché normalmente nella rappresentazione binaria il primo bit, il bit più significativo, più a sinistra, viene usato proprio per il segno del numero come in modulo di segno, poi vengono usati dei bit per esprimere l'esponente e poi i restanti bit per esprimere la mantissa, quindi viene scritto in quest'ordine qua. Anche per facilità di lettura perché le cose più importanti sono quelle più a sinistra, le prime che vedo. Se devo confrontare dei numeri, prima confronto il segno, poi confronto l'ordine di grandezza e poi solo se gli ordini di grandezza sono uguali e vado a confrontare il valore. E in particolare, in questo framework generale di virgola mobile, ci sono delle rappresentazioni standard in cui è stato deciso da un ente di standardizzazione, che è questo IEEE, IEEE di Sengergo, che ha definito questo standard IEEE 754 che dà le regole su come rappresentare i numeri ed ha in particolare una rappresentazione in singola precisione e una rappresentazione in doppia precisione. In realtà attenzione che questa slide qua, mi ricordo adesso che è sbagliata perché queste qua erano i tipi di dati del linguaggio C, invece in Python il float è in doppia precisione e la singola precisione non c'è. Ma fa lo stesso, non ti interessa. Allora, un numero in floating point, in virgola mobile, in singola precisione occupa 32 bit. 32 bit totali. Un numero in doppia precisione occupa 64 bit di memoria. Nel caso della singola precisione, i 32 bit sono divisi così. Un bit per il segno, 8 per l'esponente e 23 per l'avantissa. Nel caso della... ma non imparate le memorie sui numeri. Nel caso della doppia precisione, invece, abbiamo 11 bit per l'esponente e ben 52 bit per l'avantissa. Avere più bit per l'esponente cosa mi dà? Mi dà un'ampiezza dell'intervallo di rappresentazione più grande. Quindi potrò arrivare a potenze di 10 più alte. Avendo 8 bit, potrò arrivare a risponenti che sono 8 bit... Ricordiamoci che deve essere positivo o negativo. Quindi su 8 bit andrà da meno 127 a più 127. Lasciamo parere... Adesso non andiamo a vedere come è rappresentato nel dettaglio. Quindi vorrà dire che potrò rappresentare... Il numero più grande che potrò rappresentare sarà dell'ordine di 2 alla 127. Cioè se l'esponente lo metto a 127, in realtà sto moltiplicando... Sto spostando la virgola binaria di 127 posti a destra e quindi sto moltiplicando questa mantissa di... Per 2 alla 127. Che fa circa 10 alla 38. Mentre qua, con 11 bit, chiaramente... Avrò un esponente che può andare... 2 alla 11 sono 2048. Quindi può andare da meno 1023 a più 1023, questo esponente. E quindi può arrivare fino a 2 alla 1023. E quindi rappresentare numeri molto più grandi o numeri molto più piccoli. Mentre invece, regalare dei bit alla mantissa, che cosa serve? Ad avere più cifre decimali, più cifre dopo la virgola. Cioè al di là della potenza del 10 o del 2 su cui mi posiziono, quante cifre significative ho prima di cadere in cifre... Siamo così, inesistenti, quindi nell'errore di rappresentazione, di approssimazione. E quindi qua avrò delle errori relativi dell'ordine di 2 alla meno 23. E qui avrò degli errori relativi dell'ordine di 2 alla meno 52, ovviamente. Cioè un bit su 2 alla 23 lo riesco a distinguere. Un bit più piccolo non riesco a distinguerlo. Quindi la rappresentazione in doppia precisione è quella che mi dà ovviamente un intervallo di rappresentazione più ampio e una precisione maggiore. Se uno vuole giocare con questi numeri qua, io ho messo il link a questo sito in cui potete scrivere un numero decimale qualsiasi, scegliere una rappresentazione, ad esempio appunto qui la floating point, flotta e indica in questo caso la singola precisione e qui fa vedere in binario come è rappresentato, in particolare fa vedere il bit di segno, i bit dell'esponente, che in questo caso è più 137, e i bit della mantissa, che è qui chiamato significante. E ti fa vedere questa sequenza di bit. Se noi proviamo a rappresentare 3,14 mi dirà che innanzitutto non si può rappresentare 3,14, perché lascia parte del pi greco che ha già problemi di suo, ma 3,14 come numero decimale normale in binario è un numero periodico, è un numero che non è rappresentabile in modo esatto. ma anche, proprio per fare qualcosa di molto più modesto, 0,1, io scrivo 0,1 e mi dice guarda io 0,1 non lo posso rappresentare, il più vicino che posso rappresentare è questo signore qui, perché un decimo non si può esprimere in modo esatto come somma di potenze negative di 2. Quindi tutti i numeri che in decimale, tutti no, ma molti dei numeri che in decimale hanno una rappresentazione finita, in binario hanno una rappresentazione periodica, quindi infinita, e su un numero di bit finito sono obbligato a approssimare questa rappresentazione. poi, per carità, l'errore è molto in là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 alla meno 8, perché è l'errore su questo bit qua. Vedi che se io cambio questo bit, commuta tra un pelino meno di 0,1 e un pelino più di 0,1, ma per averlo più vicino, più esatto, mi servirebbero altri bit, in realtà mi servirebbero infiniti. Qua tra l'altro si riconosce che c'è un pattern periodico, guardate, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, è periodico. Questo è un numero, in base 2. Se invece io scrivo 3,75, o 5,75, che era quello che abbiamo fatto prima ai conti a mano, invece questo è un numero che in base 2 si scrive 1, 1, 1, 1 e poi tutti i 0. Noi avevamo visto che 5,75 era 1, 0, 1 e poi 1, 1 per la virgola, qui invece c'è solo 0, 1 e poi 1, 1 dopo la virgola, la virgola me la sposta l'esponente che è quello verde, manca il primo 1 perché è sottinteso, perché qualunque numero binario inizia sempre con 1, in decimale qualunque numero inizia con un valore diverso da 0, ma noi non sappiamo se inizia con 2, con 3, con 7, in binario inizia sempre con 1 e quindi possiamo non scriverlo, ma quello è un dettaglio in cui non entriamo. E quindi abbiamo questo tool con cui potete giocare e vedere l'effetto di cambiare i vari esponenti, se cambio l'esponente qua in decimale mi cambia ovviamente la sua rappresentazione binaria e mi cambia il valore del numero. Quindi abbiamo questi tre componenti, il segno è il più semplice, positivo e negativo, l'esponente e la mantissa, intanto qui mi fa anche vedere graficamente, posso cambiare la mantissa blu oppure l'esponente verde e vedere cosa capita. Ok? Se volete avere un po' di feeling su come funzionano questi numeri e poi ti vedete le varie formulette di come leggerli. Ma quello che ci interessa soprattutto è appunto la sua regola generale di come si forma. Un'altra cosa che volevo farvi vedere su questo sito, che in realtà è però valida in generale, è che ovviamente è molto noioso scrivere i numeri binari perché sono lunghi. Se poi prendono un doppio precisione che ha 64 bit, è un po' quando vi lettano il codice IBAN o qualcosa del genere che avete una sfizia di numeri da scrivere e da ricopiare, di sicuro sbagliate uno o due nel ricopiarli. Allora, è abbastanza normale l'abitudine quando devono rappresentare dei numeri binari che abbiano più di 4, 5 bit o 6, di non scriverli in base 2 ma scriverli in base 16. Dici, ma perché? Ti vuoi far del male? Questo numero qua, prendiamolo uno più breve, dimentichiamoci il fatto che sia un numero in floating point. Qui abbiamo una sequenza di bit che sono, in questo caso ho scelto una rappresentazione molto piccola, di 16 bit, che sono questi qua. Adesso è un numero floating point, potrebbe essere un numero in binario puro, non mi interessa, io mi concentro adesso sulla sequenza di bit. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, eccetera, eccetera. Questo è rappresentato in base 2. Se volessi rappresentare questo numero in base 16, in base 16 userò la stessa formuletta, somma degli a con i per 16 elevato a i. Ma poiché 16 è 2 alla quarta, salta fuori che una cifra in base 16 corrisponde a 4 bit della base 2. Perché se ci pensate, ci pensiamo, questo bit è 1, 2, 4, 8, ma questo vale 16. Quindi vuol dire che questi 4 bit qua rappresentano l'unità, diciamo, la cifra dell'unità del numero in base 16. E i 4 bit successivi rappresentano la cifra delle, fatemi dire decine o sedicine, come lo volete chiamare, di un numero in base 16. Quindi, rappresentare questo numero in base 10 ci richiede di fare un po' di conti. Ma rappresentare questo numero in base 16 ci dice, guarda, 1, 0, 0, 0, cos'è? 8. 8. E quelli dopo sono 0, 1, 0, 0, cos'è? Un 4. E poi abbiamo 0, 0, 1, 0, che è un 2. E all'inizio abbiamo di nuovo 0, 1, 0, 0, che è un 4. Quindi, quando io scrivo un numero in base 16, qui indicato con la x davanti per dire esadicimale, 16, 4, 2, 4, 8, sono 4 cifre in base 16, da cui posso leggere a occhio immediatamente 16 cifre in base 2. Cioè, ogni cifra in base 16 non corrisponde a 4 cifre in base 2. Direttamente si traducono 1 a 1. Mentre invece con la base 10 non c'è questa traduzione 1 a 1. Devo fare i conti, le moltiplicazioni, i riporti, eccetera. Quindi fare i conti in base 16 non frega niente a nessuno. Ma la base 16 si usa per scrivere in modo più compatto e facile da leggere i numeri binari, lunghi. Ovviamente, qui ho barato perché ho preso un numero le cui cifre in base 16 fossero tutte piccoline. Però, se io prendo un numero da un'altra parte, capiterà e i numeri in base 16 vanno da 0 a 15. Noi le cifre numeriche ce le abbiamo solamente allo 0 al 9 e quindi ci mancano 5 simboli per rappresentare queste cifre. E quindi si usa per convenzione le prime 6 lettere dell'alfabeto. Quindi, qui c'è scritto 2, 0, 0, 1, 0 D Cos'è D? Allora, contiamo dal 9 in avanti A, B, C, D, E, F Dal 9 in avanti facciamo A vale 10 B vale 11 C vale 12 E D vale 13 E varrebbe 14 F vale 15 13 In binario è 8 più 4 più 1 Poi abbiamo 1, 1, 1, 0 Che è 14 8 più 4 più 2 14 corrisponde alla lettera E Infatti sotto alla lettera E E poi è un 2 semplice 0, 0, 1, 0 Che scrivo come 2 Quindi, non spaventatevi Se vedete dei numeri scritti In base 16 Alla fine c'è una corrispondenza Immediata Con i numeri binari Basta che ciascuna cifra In base 16 Fate corrispondere 4 bit in base 10 O in base 2 E se ci sono delle lettere Nel nome del numero Semplicemente Vanno dal 10 al 15 In ordine alfabetico Dalla A alla F Ok Questo dal punto di vista pratico Ci siamo però anche accorti Che la rappresentazione Dei numeri frazionari Non è mai esatta Anche i numeri Appunto abbiamo visto 0, 1 Che non è un numero Particolarmente strano Tipo Picrico quarti O cose strane Che per noi è un numero Normalissimo Invece è approssimato In floating point Quindi dobbiamo fare attenzione L'avevamo già notato Nelle primissime lezioni Quando a volte Abbiamo sempre detto L'uguaglianza Da numeri float Non la facciamo mai E in Python C'era la funzione Disclose Che ci permetteva Di vedere Quanto sono Vicini Se sono vicini Al netto Di un piccolo errore Che possiamo tollerare Ecco Come sui numeri interi Anche i numeri reali Hanno un intervallo Di rappresentazione Avrò Il numero Più piccolo Partiamo In singola precisione Come faccio A ottenere Il numero più piccolo In valore assoluto E beh Dovrò prendere L'esponente Più basso possibile Quindi molto negativo E La mantissa Più bassa possibile Mettiamo 0 In questo caso Quello dell'esponente 0 È un caso particolare Che non si usa O Un esponente Che è il più basso possibile Viene interpretato Come Meno 126 Non abbiamo detto Come sono presentati Questi bit verdi Non ve lo spiego È un'altra forma ancora Di rappresentazione Di numeri interi In cui non ne entriamo Questo è il numero Più piccolo Che posso rappresentare Più vicino Allo 0 Che posso rappresentare In singola precisione È messo Più o meno qua Se ho la scala Se ho la scala Di numeri reali I numeri in singola precisione Vanno dal più piccolo possibile Positivo Che è 10 al meno 38 Al più grande possibile Positivo Che è circa 10 al 38 Che ottengo Ovviamente Mettendo al massimo Il valore dell'esponente Qui Che è circa questo Poi ci sono dei valori Particolari dell'esponente Che mi danno 0 L'infinito È complicata Questa rappresentazione Ma rimaniamo La parte normale Qualcosa che mi dia 2 al 127 In realtà Potrei Anche aumentare La mantissa Il più possibile Pur mantenendo 254 Come esponente E mi da Non 1 virgola Ma 3 virgola Per 10 al 38 E vabbè Poveretto La mantissa Non mi cambia L'ordine di grandezza Mi cambia solamente Il valore del numero Il valore Intero Quindi i numeri Che vanno Da 10 al meno 38 A 10 al 38 Sia positivi Sia negativi Perché per ottenere Quelli negativi Posso giocare Col bidisegno Che non hanno ancora Toccato finora Sono rappresentabili Tutti i numeri Che sono maggiori In valore assoluto Di 10 al 38 E rotti Non sono rappresentabili Sono overflow Anche qua C'è una condizione Di overflow Che avverrà Raramente Nella somma Ma molto più frequentemente Nella moltiplicazione Tra questi valori Le moltiplicazioni Mi fanno uscire Dalle potenze Rappresentabili Ma ho anche Un'altra condizione Strana Che invece Viene chiamata Di underflow Underflow Dice Che sto cercando Di rappresentare Un numero Troppo piccolo Rispetto all'esponente Negativo Che posso dare Se io volessi rappresentare 10 alla meno 40 Perché stamattina Mi sono svegliato Che volevo rappresentare 10 alla meno 40 Non c'è Allora 10 alla meno 40 O lo approssimo Con 10 alla meno 38 Quindi lo rappresento Con questo numero qui Però capite Che ho sbagliato Di due ordini Di grandezza Ho preso un numero Circa 100 volte più grande Non mi piace E l'altra alternativa È rappresentarlo con 0 Che è un errore Forse ancora più grave Perché ho un errore Relativo infinito Però non ho soluzioni Quindi qualunque cosa Io scelga Se io ho un numero Che mi cade In questo intervallo Sia che lo approssimi Con 0 Sia che lo approssimi Con 10 alla meno 38 Compio degli errori Di rappresentazione Enormi E quindi di solito Questa operazione Viene classificata Come un errore Il numero Viene approssimato a 0 E poi il calcolatore Mi dice Attenzione Che questo 0 Non è il risultato vero Ma è il risultato Di una condizione anomala In cui il risultato vero Esce dai limiti Della rappresentazione Non esce Perché è troppo grosso Ma perché è troppo Piccolo In valore assoluto Quindi non confondiamoci L'underflow Non c'entra niente Con i numeri negativi Un numero negativo O molto alto In valore assoluto È comunque sempre overflow L'underflow Si verifica solo Sui numeri Floating point Infatti non abbiamo parlato Sui numeri interi E solo Quando un'approssimazione È molto vicina Allo 0 Più vicina Rispetto All'esponente più piccolo Che posso rappresentare Queste ovviamente Sono condizioni Che se si verificano Ovviamente inficiano Il valore del risultato E dobbiamo fare attenzione Con questi numeri Perché quando si verificano Queste approssimazioni Il risultato Il risultato dei calcoli È A volte Può essere Sorprendente Ad esempio Qua viene calcolata Un'espressione semplice Tipo X più Y più Z E X più Y più Z Con le parentesi Messe Tra i primi due Rispetto agli ultimi due numeri Quindi Probabilità associativa Ci dice Che sono sacrosantamente Identici Questi numeri Ecco Se noi E normalmente Anche dai calcoli Ci vengono uguali Ma se noi Ci mettiamo dentro Dei numeri al limite E qui 10 alla 38 Non è scelto a caso Sono due numeri La cui Somma Sottrazione Rischia di andare fuori E provo a fare Calcolare queste espressioni Vedo che in uno di due casi Il risultato viene 0 Nell'altro caso Il risultato viene 1 Il risultato corretto Sarebbe 1 Perché ho fatto Un numero Più il suo opposto Più 1 Viene 0 Perché Per come ho fatto i calcoli Di fatto Ho sommato Questa Prima Espressione Ho fatto Y più Z Quindi sommato Questo numero Y più 1 Ma nella scala Di 10 alla 38 Più 1 Non cambia il valore Perché l'1 Sommato 10 alla 38 Mi va Mi andrebbe a influenzare Un numero Della mantissa Che non ho Mi si è vero 128 bit di mantissa Io ne ho solo 23 E quindi Y più Z Di fatto È uguale a Y Identico a Y Matematicamente Non lo è Ma nella Approssimata Il numero Il numero Lo è Allora questo è Un tema Di cui non ci occupiamo Sicuramente Nella parte Nel corso Di geometria Che avete Nel secondo semestre C'è una parte Di calcolo numerico Noiosissima Che Invece va A affrontare Un pochino Questo problema Della Stabilità numerica Delle espressioni Quindi non basta Solo sapere l'espressione E metterlo in un computer A volte devi scrivere In modo Che gli errori di calcolo Siano accettabili Siano tollerabili O perlomeno Siano controllabili Tu sappia Quali errori Puoi avere E questa ovviamente È solo la base Noi Nel programma di questo corso Non usciamo ad addentrarci Verso Altri tipi Di rappresentazioni Ma Oltre ai numeri interi I numeri reali I numeri complessi Che poi Da fatto Sono una coppia I numeri reali Che sono Perfettamente supportati Da Python Anche se non ci abbiamo giocato C'è tutta una serie Di altre informazioni Che non sono numeri A partire Dal testo Testo Immagini Suoni Video Che sono il motivo Per cui accendiamo il computer Non è che per andare A scrivere dei numeri E questi Come si rappresentano? Vabbè Il trucco è molto semplice Se io ho Qualunque tipo Di rappresentazione Di informazione Non numerica Innanzitutto Per poterla rappresentare Devo convertirla In qualcosa di numerico Associare dei numeri A cose che invece Non erano numeriche Fare una Codifica numerica Quella che poi Chiamiamo in gergo Digitalizzazione Dell'informazione Trasformare Qualunque cosa Una fotografia In una serie Di numeri Nel caso La fotografia La serie di numeri Sarà Le componenti Di colore Di tutti i pixel Quadratini In cui è stata divisa Quell'immagine Nel caso Di un suono Sarà I livelli acustici Campionati Con una certa Frequenza Ogni 44 mila Volte al secondo Rappresentati Come numeri Interi Su 12 bit Per indicare La codifica Dei cd E cose di questo Genere Noi qua Non abbiamo Tempo di entrare Una codifica L'abbiamo già Conosciuta Che è quella Dei testi Dei caratteri Chi è che ha Deciso Che Il punto Esclamativo Dovesse avere Il codice Dove è finito 33 decimale O 2 1 Esadecimale O Leggendo il 21 È 0010 0001 Binario Vedete che qua Il binario non ci stava L'hanno scritto in base 16 Che tanto è uguale Agli occhi allenati Chi l'ha deciso? L'ha deciso qualcuno Un giorno Ha detto Beh Devo rappresentare questo Che è un'informazione Non numerica Le associo un numero E ci mettiamo d'accordo Che dovessero essere avanti E così E ne più ne meno E Per tutti i tipi Di informazioni Adesso Nel caso del testo Come sempre Si parte facili E poi diventa complicata La cosa Perché quando poi Aggiungi bit Aggiungi informazione Noi infatti Usiamo una codifica Che chiamiamo appunto UTF8 In cui tra l'altro Il numero di bit Per carattere È variabile Tra 1 e 4 Nella sua rappresentazione Ma Di nuovo Tutte le cose Se ci vai dentro Fino in fondo Diventano complicate Noi ci accontentiamo Noi ci accontentiamo Di 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 conoscere La La versione più semplice E tutte le altre codifiche Più avanzate Di nuovo appunto Non le trattiamo Però sono basate Sullo stesso principio Noi Di convertire In una serie di numeri In qualche modo Usando delle proprietà Tipicamente fisiche O Dell'informazione Che vogliamo rappresentare Una serie di numeri E a quel punto Nel mio computer Cora abbiamo Una lista di numeri Preferibilmente Numeri interi Nella maggior parte Delle codifiche Di informazione multimediale Tutto è mappato In numeri interi Perché sono più veloci Da elaborare Rispetto ai numeri Di floating point Però Come dicevo Su questa parte qua Non Non ci spingiamo E con questo Chiudiamo Questo argomento Grazie a tutti